Durante il mese di maggio il quadro macroeconomico è andato complicandosi. Negli Stati Uniti i dati sull'attività manifatturiera e mobiliare mostrano chiari segnali di rallentamento. I timori circa una possibile recessione americana durante i prossimi 12 mesi, in concomitanza con i primi segnali di rientro, seppur lento, dei dati sull'inflazione, dall'8,5% di marzo o l'8,3% in aprile, hanno inizialmente alimentato speranze di un possibile rallentamento del ciclo di tightening monetario della Federal Reserve. Il dato sull'occupazione di maggio, pubblicato a inizio giugno, segnala un mercato del lavoro ancora caldo, rimettendo in discussione l'ottimismo circa una possibile cautela autunnale della banca centrale americana. In Cina focolai di Covid in città chiave, Shenzhen, Shanghai e Beijing fra le altre, hanno portato a diffusi lockdown, con un impatto economico sul GDP cinese stimabile in circa un punto percentuale. Nelle ultime settimane, il graduale allentamento delle restrizioni sanitarie combinato con la prospettiva di un ulteriore stimolo monetario e fiscale, inducono un certo ottimismo in questa regione. Infine, in Europa l'ulteriore escalation delle dinamiche inflazionistiche aggiunge pressione sulla banca centrale europea nell'accelerare la tempistica dei rialzi dei propri tassi di politica monetaria, anche se in un contesto di significativo rallentamento della crescita. A causa delle ricadute dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. I mercati finanziari riflettono in buona parte questi sviluppi. Il mercato obbligazionario americano, dopo aver fatto segnare un picco sui rendimenti decennali al 3,2% a inizio mese, ha recuperato 50 basis point sui timori recessivi, per poi correggere nuovamente alla luce dei forti dati sul mercato del lavoro, rimanendo tuttavia sotto la soglia del 3% sul 3 era 10 anni. I mercati azionari hanno seguito una dinamica simile, una profonda correzione di 10 punti percentuali su timori recessivi, seguita da un recupero altrettanto violento nella seconda metà del mese, alimentato da aspettative di una stretta monetaria della Fed, meno aggressiva di quanto temuto. In Europa le pressioni inflazionistiche sono elevate e in risalita dell'8,1% su base annua nel mese di maggio, questo alimenta le aspettative di una stretta monetaria più aggressiva da parte della Banca Centrale Europea. Fonte, Pictet e Mitalia I mercati obbligazionari e monetari in Europa restano dunque ancora sotto pressione. Il Bund tedesco corregge ulteriormente facendo segnare nuovi massimi di rendimento vicino all'1,3%. I mercati monetari prezzano ora oltre un punto percentuale di rialzi da parte della BCE entro fine di quest'anno e un tasso terminale a 1,75% entro la fine del 2023. Nonostante la pressione a rialzo sui tassi europei, i mercati azionari continentali esprimono una volatilità più contenuta e sono al margine più resilienti rispetto agli indici americani in virtù di un sottopeso estremo da parte degli investitori, che hanno da tempo ridotto in maniera importante la propria esposizione ai mercati continentali a seguito della guerra in Ucraina. Quali possono essere in questo quadro gli sviluppi macroeconomici e le prospettive per i mercati nei prossimi mesi? Negli Stati Uniti l'interazione fra i dati di inflazione, quella salariale in particolare, e le dinamiche del mercato da lavoro, detteranno l'atteggiamento della Federal Reserve. La combinazione di dati inflattivi in discesa solo moderata nel contesto di un mercato del lavoro forte potrebbe indurre la Fed ad accelerare il processo di normalizzazione dei tassi di politica monetaria. In assenza di una crescita dell'offerta di forza lavoro che possa calmirare la crescita dei salari, la banca centrale americana si vedrebbe costretta a ribilanciare il mercato del lavoro attraverso rialzi più aggressivi sui Fed funds, sia riguardo la tempistica che nella dimensione dei singoli incrementi. I mercati valuteranno se questa interazione consentirà un atterraggio morbido dell'economia americana o se la necessità di ricondurre l'inflazione sotto controllo possa innescare una recessione negli Stati Uniti. In Europa i molteplici SOC sul lato dell'offerta, a partire dalla crisi sanitaria fino all'esplosivo rincaro dei costi energetici, hanno innescato una spirale inflazionistica ancora più difficile da gestire. Per contrastare tali dinamiche e per prevenire eccessivi second-round effects, la BCE si appresta ad annunciare l'inizio del proprio ciclo di tattitening. I molteplici rialzi, prezzati oggi dal mercato monetario, sono forse giustificati dal livello dell'inflazione corrente e previsto dalla BCE sull'orizzonte dei prossimi tre anni, ma è possibile che una recessione nei prossimi dodici mesi o una crisi dei mercati periferici. Il BBTP è il principale indiziato, possano portare ad abortire o a imporre una pausa al ciclo nascente, non diversamente da quanto accaduto in passato alla BCE. I prossimi mesi si annunciano quindi incerti ed è facile prevedere mercati estivi volatili nel contesto di liquidità dei mercati in declino per motivi stagionali. Il presente materiale di marketing è emesso da PICTE Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile. Del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanadment.picte, o in forma cartacea presso PICTE Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Rue du Fortnieder-Gwenwood, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanadment.picte nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICTE Asset Management, Europe, S. A. A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi d'investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso. Nei limiti del prospetto del fondo, gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dallo stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative.